La nostra relazione con alcune persone è significativamente importante a tal punto che quando questa dovesse incrinarsi, noi per prima ne possiamo risentire. E allora possiamo comprendere quanto sia vitale riuscire a salvaguardare la bellezza di certi legami e tanto più il legame con Dio. Perché è un motivo di vita per noi. In questo video intendo quindi occuparmi della riparazione della relazione, affrontandone solo alcuni punti di vista. Faccio un esempio, quando una persona prende intipidamente qualcosa che appartiene ad un'altra, se lo fa intenzionalmente, proprio per volergli la sottrarre con cattiveria, supponiamo. Se poi si rende conto che la cosa non va, può chiedere perdono. E già questo passo è molto importante. Resta però, ecco, un grande punto. Possibilmente quell'oggetto va ritornato, se è possibile, no? O se non è possibile ritornarlo, magari si cerca di risarcire la persona del danno. E non solo questo, si cerca di mettere in atto tutta una serie di comportamenti per riparare con la relazione. Quindi la richiesta di perdono è importante, però è importante con un cambiamento di vita integrale. Lo stesso è anche con Dio. Lo stesso è con le persone con le quali c'è un rapporto importante di amore, ecco. Supponiamo, per esempio, di confessarci, ricevuta l'assoluzione, abbiamo la certezza del perdono di Dio, il quale Dio è sempre desideroso di perdonare l'uomo. Questo però non significa che il nostro cuore sia necessariamente, ecco, esente da certe inclinazioni al male, al peccato, non è affatto detto. Tant'è vero che alcuni continuano magari poi a ricadere negli stessi peccati. E allora è utile per l'appunto riparare la relazione. Quindi mettere in atto dei comportamenti che possano far sì che il nostro orientamento verso Dio possa essere sanato. C'è una parola che oggi non è così di moda, che è penitenza. Per penitenza, intesa proprio come una forma di riparazione di una relazione, capiamo quindi essere tutt'altro che una cosa negativa. Perché può essere uno strumento, no, di miglioramento personale. E allora è utile fare un po' il punto della situazione, cercare di comprendere quali sono le ragioni per le quali assumiamo magari certi comportamenti, usiamo certe parole. Perché comprendere le motivazioni, comprendere i fini, ci dà un'idea della qualità della relazione. e da qua noi possiamo partire per revisionarla. Faccio un altro esempio. C'è una persona che magari regala un oggetto se si domanda come mai l'ho regalato. Può darsi che risponda a se stesso l'ho regalato perché lo ritengo che sia proprio utile per l'altra persona, l'ho regalato con amore, l'ho regalato... so, tante belle cose. Un'altra possibile risposta che potrebbe dare a se stesso è perché l'ho regalato perché in realtà volevo mettermi in mostra. Volevo catturare ecco il suo cuore, volevo farmelo amico o amica. Ecco, l'esame del nostro cuore è un esame schietto, aperto. E' importante per comprendere proprio la qualità di questa relazione. E laddove ci rendiamo conto che le motivazioni i fini ecco non sono ecco così alti possiamo cercare di rivedere le nostre condotte e riparare. Tra l'altro la riparazione è importante perché tenete conto che non è solo compromesso il nostro rapporto con Dio ma essendo noi parte di qualcosa di molto grande siamo all'interno di una rete sociale. Il venire meno di un contributo positivo da parte di uno fa sì che l'intera rete ne risenta. se per esempio io non dovessi fare il bene che posso fare allora altri ne risentiranno magari non riceveranno quel bene che avrebbero potuto ricevere e a loro volta non lo potranno dare non lo potranno dare non lo potranno dare cioè a cascata un peccato nostro ha delle conseguenze così come qualcosa di buono che facciamo per gli altri ha delle conseguenze positive quindi è bene cercare di riflettere ecco cercare di quanto più possibile far sì che il nostro orizzonte sia buono positivo ma nel Natale che ci possono essere conseguenze positive e laddove invece dovessimo renderci conto che alcuni comportamenti non sono ok cerchiamo di porre il rimedio ma nel Natale è da limitare il danno e possibilmente con l'aiuto di Dio perché no anche ecco davvero sistemano le cose ma ricordiamoci sempre che comunque è Dio che davvero attraverso gli altri attraverso di noi risana le relazioni quindi anche laddove noi dovessimo renderci conto che poi davvero ci siamo riusciti rendiamolo a Lui perché senza Dio non sarebbe possibile tutto questo perché è proprio Dio amore e quindi c'è bisogno dell'amore per riparare una relazione d'amore grazie